Eccoci qua. Allora, possiamo iniziare con l'esame. Intanto se ci parla un po' di lei, quello che vuole, se si può presentare. Io mi chiamo Lui, sono nato in Saldo, in Hawaii, quando avevo 7 anni, poi ho un altro video, capitale di Hawaii. Io sono sposato, mia moglie da 10 anni, ho 3 figli, una bambina di 10 anni, si chiama Delfina, 10 anni, un bambino si si chiama Benjamina, 7 anni, ho un piccolo, aveva 2 anni, come si chiama? L'autario, due bambini, tre figli. Io avevo in Barcellona, in Spagna 6 anni, io sono calciatore, professionista, abbiamo sentito paura, calciatore, da 15 anni ho cominciato a giocare, calcio, la nazionale di Dubai, poi a Kroningen, all'Ajax, poi a Madrid, prima del Barcellona, prima del Barcellona, prima del Barcellona, poi a Liverpool, poi a Liverpool, l'università. Da quanti anni gioca in Barcellona? Sei anni. Sei anni. E nel tempo libero che cosa le piace fare? No, mi piace molto stare con la mia famiglia, nel tempo libero gioco alla Playstation con i miei figli, dopo mi piace molto per vedere i mati, uguali, come si è normale, fare il barbecue ai miei amici, a mia famiglia. Allora, qui ha queste quattro immagini, ne puoi scegliere due, quelle che vuole, se ce le puoi descrivere, per favore. Questa, ci sono due persone, in queste immagini ci sono due persone, una mamma e un bambino, la mamma aiuta ... puoi di , aiuta il ... aiuta .. ah! NeancheUh! Per iمل? Eh! Per i polli! Per i polli! ..per al bambino, e la pena sul quaderno, il padre sul quaderno. La mamma indossa una maglietta rossa, i bambini indossano una camicia celeste, la mamma porta gli ocali, la famiglia è molto numerosa, ci sono quattro persone, papà, mamà, bambini e bambina, fare il cibo, il supermercato, la spesa, la mangiare, un bambino porta cocomero, peperoni, frutta e verdura, con la carrera, molto contento, molto felice a tutti i nostri amici.